Quello che ho al polso e che sto provando oggi è il Doji D11, uno smartwatch che ha un costo di circa 80€ che può essere acquistato su Aliexpress e che offre tutte le funzionalità complete di uno smartwatch ad un prezzo davvero molto competitivo. Per avere uno smartwatch non occorre spendere cifre da capogiro ma con il Doji D11 con una piccola cifra tutti possono dotarsi di un completo smartwatch per avere a disposizione applicazioni per il fitness e quant'altro. All'interno della confezione c'è un piccolo flyer con le istruzioni sulla prima configurazione del D11 e poi naturalmente l'orologio in questa versione che è dotato di un cinturino gomma e viene fornito di un cavetto USB per la ricarica. Il caricatore non viene fornito con la confezione quindi bisognerà utilizzare un caricatore per esempio per il cellulare. L'attacco del cavo di ricarica è dotato di un sistema che permette di posizionarlo correttamente sempre nel verso giusto, se lo si prova a posizionare nell'altro verso non si riesce ad attaccarlo. E poi sempre in dotazione vengono forniti anche altri due cinturini in modo che uno può scegliere quello che più gli piace e quindi avere o questo che è più sportivo questo che è un cinturino in gomma un po' più classico e poi questo cinturino in similpelle che lo rende ancora più classico. Anche la sostituzione dei cinturini è davvero molto semplice perché basta in pratica tirare questa piccola levetta e quindi in un secondo si può cambiare il cinturino. Per la configurazione dell'orologio al telefono bisogna installare l'applicazione Glory Fit attraverso l'applicazione che è comunque disponibile con un'interfaccia in italiano quindi non si ha nessun problema per potersi muovere all'interno delle varie voci questa applicazione mette a disposizione tutta una serie di funzionalità per poter configurare l'orologio. Ora dalla rubrica si può per esempio scegliere i contatti rubrica per sincronizzarli con l'orologio perché l'orologio ha comunque la funzione per effettuare le telefonate con uno speaker integrato quindi io posso una volta importati i numeri della rubrica telefonare direttamente dall'orologio quindi senza mettere mani al telefono. In cruscotto posso scegliere i quadranti da importare sull'orologio a disposizione ce ne sono oltre 200 quindi c'è da sbizzarrirsi tra le disponibilità dei quadranti quindi poi una volta selezionato il quadrante si può fare la sincronizzazione con l'orologio e quindi importarlo poi sull'orologio. Da qui poi si possono impostare tutta una serie di funzionalità quelle per il rilevamento delle funzioni fisiche come quindi il battito cardiaco quali applicazioni attivare o meno affinché sia possibile poi gestire le notifiche direttamente dall'orologio a differenza di altri smartwatch non si possono installare altre applicazioni perché non c'è uno storo delle applicazioni ma quelle che sono già integrate sono sufficienti per poter gestire tutte le attività quotidiane quindi dalla messaggistica alle attività sportive e quant'altro quindi diciamo che c'è davvero di tutto quindi non occorre avere uno store per installare altre applicazioni poi si può impostare per esempio la funzionalità per accendere lo schermo con il movimento del polso in modo automatico e altre impostazioni e da qui si può fare anche l'aggiornamento poi del firmware. Il design del D11 diciamo può piacere e può non piacere questo è un qualcosa di personale a me personalmente questa ghiera in metallo non fa impazzire però a qualcuno invece può piacere quindi quello è qualcosa di molto personale lì avrei preferito qualcosa di più sportivo con magari anche tutto in plastica ma scuro il display è circolare da 1,32 pollici con una risoluzione di 360x360 quindi molto luminoso e abbastanza definito per leggere tutte le informazioni che sono mostrate sul display stesso c'è anche una ghiera con un pulsante accanto per gestire varie funzionalità come per esempio ruotando la ghiera si possono cambiare velocemente i quadranti sembra attraverso il pulsante sulla ghiera si può disabilitare il display oppure si può accenderlo con trascinando dall'alto verso il basso si accende a questa modalità dove ci sono delle impostazioni veloci per esempio c'è questa per attivare la torcia perché se io attivo la torcia posso utilizzare l'orologio come una piccola torcia all'occorrenza c'è per esempio quello per effettuare le telefonate quindi posso andare nella rubrica e da qui posso gestire le telefonate direttamente con l'orologio devo dire che è una funzionalità comoda che funziona bene che mi permette di telefonare senza dover utilizzare cuffie o telefono perché c'è uno speaker integrato con il microfono che mi permette di gestire le chiamate direttamente dall'orologio e poi posso accedere direttamente alle altre impostazioni per gestire luminosità, cambiare il tema e quant'altro tutto questo trascinando quindi dall'alto verso il basso trascinando invece da sinistra verso destra si accede a tutte le varie applicazioni che sono già integrate nel telefono e ce ne sono davvero tante nella modalità sport le attività a disposizione sono oltre 70 quindi davvero c'è di tutto qualsiasi attività sportiva che uno voglia fare con il D11 può monitorarla quindi c'è davvero di tutto dalla corsa, al calcio, al tennis, volano, ping pong insomma scorrendo c'è davvero di tutto va considerato che il D11 può essere utilizzato anche in piscina per nuotare perché è impermeabile secondo lo standard IP68 quindi lo si può utilizzare tranquillamente anche quando si fa nuoto poi c'è naturalmente l'applicazione del telefono c'è l'applicazione per misurare il battito cardiaco perché ha il sensore per la misurazione del battito cardiaco che funziona 24 ore su 24 quindi io posso monitorare il mio battito e poi l'applicazione naturalmente sincronizzando i dati con il telefono poi posso gestire il tutto dall'applicazione GloryFit c'è anche l'applicazione per misurare il livello di ossigeno nel sangue quindi anche questa funzionalità non è data per scondata negli smartwatch e anche questa può essere molto utile perché consente quindi di monitorare il livello di ossigeno nel sangue poi naturalmente c'è l'applicazione Meteo quello per gestire la musica per controllare i messaggi la sveglia per la respirazione ci sono anche dei piccoli giochi per esempio se uno si vuole divertire con dei piccoli giochi purtroppo come dicevo non si possono installare altre applicazioni altri giochi bisogna utilizzare quelli che sono sul telefono magari con qualche aggiornamento del firmware verranno anche aggiunde nuove funzionalità c'è l'assistente vocale e quant'altro quindi comunque diciamo che è un orologio completo di tutto quello che può servire in qualsiasi attività quotidiana se serve per esempio la calcolatrice c'è il blocco con il codice c'è la possibilità di monitorare anche per le donne il ciclo mestruale con il periodo fertile e quant'altro e quindi diciamo che è un orologio abbastanza completo è dotato di una batteria da 300 mAh che garantisce un'autonomia massima di 7 giorni e poi c'è anche l'applicazione che consente di monitorare la qualità del sonno scorrendo invece dal basso verso l'alto si ha accesso agli ultimi messaggi quindi si possono controllare velocemente gli ultimi messaggi quindi diciamo che è un orologio completo per quello che riguarda le funzionalità che uno può desiderare in uno smartwatch quindi in conclusione tutto sommato si tratta di uno smartwatch molto completo con un prezzo molto aggressivo che ha tutte le funzionalità sia sportive che quelle di uso quotidiano che uno può desiderare in uno smartwatch si può utilizzare sia con Android che con iOS con una buona durata della batteria per il prezzo a cui viene offerto si tratta di uno smartwatch ben riuscito l'unico ostacolo può essere magari come dicevo il design ma quello è una questione personale comunque va considerato che nella dotazione sono presenti anche altri due cinturini uno un po' più sportivo e uno un po' più classico in modo che comunque uno può cambiare il cinturino per adattarlo meglio all'abbigamento quotidiano tutte le informazioni per acquistarlo sono disponibili nella descrizione di questo video grazie a tutti grazie a tutti